Lo sapevate? Esiste una ristretta minoranza del mondo che non riesce mai a saziarsi. Che problema! Non contenti del caro Fiscal Compact vogliono ora farci mandare giù un altro delizioso dessert. Si chiama... E che cos'è? E' un trattato che Europa e Stati Uniti stanno stilando in silenzio attorno a cui c'è un alone di mistero. Zero informazioni, zero trasparenza. Il problema è che se questo trattato passa, le leggi dello Stato, le decisioni delle regioni, le delibere dei comuni potranno essere impugnate da qualsiasi azienda privata e perdere così il proprio valore. Vogliamo qualche esempio? Le leggi sulla sicurezza e sulla qualità del cibo. Per la gioia delle multinazionali alimentari. Addio. Le leggi sull'acqua pubblica? Da oggi in poi chiamatele leggi sull'acqua privata. I beni comuni della natura, come i semi, potranno diventare proprietà esclusiva del mercato. Con l'alibi della proprietà intellettuale potrebbe essere impedito qualsiasi scambio e download via internet. Questi ovviamente sono solo alcuni esempi. L'altra Europa con Sifras vuole andare al Parlamento Europeo anche per bloccare questa vergogna. Per fare un'altra Europa. L'altra Europa con Sifras. Se un'altra Europa con Sifras. OifIVI Soражa